Parchi Insieme è un progetto nato per permettere l'attività sportiva a tutti, bambini, ragazzi, adulti, anziani con disabilità e normodotati. Ogni postazione può essere occupata da più persone contemporaneamente e su ogni postazione si possono svolgere tanti esercizi. Sono esercizi molto molto semplici però che permettono un'attività motoria di base. Qui siamo a Sago che è il primo comune che ha creduto in questo progetto. Parchi Insieme non sono soltanto postazioni nei parchi ma è anche attività sportiva nei parchi a corpo libero coinvolgendo tutti, anziani, adulti, bambini con disabilità e normodotati. Il Parco Insieme è una proposta che ci è pervenuta qui ad Assago e non volevamo perdercela perché è il primo parco in Italia a completa funzionalità ludico-motoria per ragazzi e persone con disabilità e non. Quindi la totale integrazione, il divertimento, il gioco tra persone che presentano dei problemi e persone che invece frequentano normalmente tutti i parchi che potete conoscere nelle zone. Come potete vedere è realizzato in cinque aree che si distinguono per la loro specificità. Qui abbiamo il bigliardello, il bigliardello ha una funzionalità tipo un gioco del bigliardo umano dove la persona nel proprio interno, compatibilmente con le sue problematiche può svolgere attività giocando in carrozzina, attività per persone non vedenti, attività per persone con cerebrolesione, difficoltà deambulatorie, utilizzando le mani per esempio piazzando le palline negli angoli, i piedi anche per ragazzini che magari iniziano a giocare a calcio può diventare una funzionalità incredibile a livello tecnico e utilizzando esempio delle mazze tipo hockey per le persone in carrozzina in modo da equiparare il gioco. Questa che vedete è una stella metallica dove possono essere svolte un innumerevole numero di esercizi, dal valicamento superiore a quello inferiore, trasferimenti, traslare, spostare da una posizione all'altra, persone non vedenti che possono utilizzare l'appoggio per seguire la circonferenza di questo cerchio, persone con cerebrolesioni che possono essere guidate nel loro interno dal tecnico, dal genitore, dal nonno in modo da poter usufruire anche loro di questa situazione e una sequenza di esercizi vanno nella direzione di dare sviluppo di idee e massima funzionalità. Lì a fianco abbiamo il quadrivio, il quadrivio è un esercizio di linee che permette per persone con cerebrolesioni o problematiche mentali o problematiche di equilibrio quindi di imparare a gestire il proprio equilibrio camminando sulle righe, facendo giochi di equilibrio, esercizi di equilibrio, monoarto, sui due arti, in velocità, in movimenti lentissimi. La stessa cosa viene trasferita in maniera splendida per persone su carrozzina che quindi possono imparare a gestire partendo sin da piccoli la propria carrozzina sulle curve, sui ritorni, sull'arretramento, l'avanzamento e su tutte le funzionalità che poi la carrozzina può proporgli. Abbiamo ragazzini che hanno imparato a fare le impennate su questo giochino qua con le proprie carrozzine. Le due aree che vedete colorate hanno difformità cromatiche volute e specifiche per andare incontro a persone con ridotta capacità visiva. Vuol dire che nello specifico il bianco risalta rispetto agli altri colori, il blu altrettanto risalta sul bianco, non solo, non di meno diventa un problema di forme. Come vedete potete notare tre forme a palla, tre forme coniche, tre forme quadrate. Questo è per una persona sia con cerebrolesione e che con difficoltà visive può diventare un esercizio e un gioco per scoprire forme nuove, realizzazioni e situazioni che potrebbe poi ritrovare nella vita comune. Le stesse che vedete lì a fianco sono rispetto a queste morbide, quindi le prime sono totalmente rigide, le seconde sono morbide dove le persone quindi possono appoggiarsi e sentire la diversa durezza di ogni singolo appoggio e colpendole ricevere un ritorno sonoro tipo campanellino che deve essere diverso fra una forma e l'altra. Come vedete qua trovate delle forme cubiche e altre forme totalmente diverse. L'ultimo, ma non per questo il più divertente probabilmente, è questa parete di arrampicata che per l'inclinazione, sono due inclinazioni diverse, e la struttura garantisce una funzionalità completa sia per bambini più piccoli che persone con disabilità che per persone in carrozzina. Persone in carrozzina che possono tranquillamente iniziare ad apprendere la presa e lo spostamento specifico, colori che devono risaltare sul fondo giallo per andare incontro anche a chi, ribadisco, ha difficoltà visive, fuori un pochino particolari che servono per scambiare gioco e interazione fra le persone che sono all'interno di questa struttura, per esempio passare con la carrozzina, inseguirsi, fare percorsi a otto, fino a poi magari salutarsi facendo passare la mano all'interno di questo foro e poi trovare la persona dall'altra parte corrispondente. L'ultima parete, anche questa, consente di imparare prese per arrampicata anche per bambini più piccoli e poi fare magari esercizi isometrici che possono riguardare di più la preparazione fisica della persona, per esempio in posizioni statiche di questo tipo piuttosto che di elevazione del ginocchio o di altri movimenti altrettanto specifici.